A sette anni dall'incidente a Campo Felice all'equipaggio del 118, la città ricorda i suoi angeli. Su Monte Cefalone persero la vita Walter Bucci, medico del 118, Giuseppe Serpetti, infermiere, Mario Matrella, tecnico di bordo, Davide De Carolis del soccorso alpino, il pilota Gianmarco Zavoli, lettore Palanca, l'osciatore del soccorso sulle piste. Tutta la città ancora, impresso quel tragico giorno, l'Accademia Medica della provincia dell'Aquila, con ASDA, Soccorso Alpine e Protezione Civile, ogni anno ricorda quegli eroi silenziosi che del loro lavoro avevano fatto una missione di vita. La giornata ha avuto vari step per il ricordo e la commemorazione, dalla parte religiosa nella Chiesa degli Anime Santi alla fiaccolata a Campo Felice, passando per il convegno sulla sensibilizzazione per la sicurezza in montagna. Oggi ricorre anche l'anniversario della tragedia del Monte Velino, in cui persero la vita quattro escursionisti, con una tragedia anche quella che ha tenuto col fiato, sospeso l'Abruzzo intero. Oggi è una giornata di commemorazione delle vittime del Monte Cefalone, come sapete, il 24 gennaio. Ogni anno noi celebriamo questo ricordo, ma non è soltanto un modo per ricordare le vittime che sono stati amici, ma anche per sensibilizzare la gente, l'opinione pubblica a problematiche importanti. Parleremo della bellezza della montagna oggi, ma anche dei pericoli della montagna, così come faremo riferimento a tutto ciò che i cittadini possono fare per migliorare il sistema sanitario nazionale pubblico, in cui le vittime lavoravano e per cui le vittime lavoravano. Quindi credo che sia una giornata di riflessione per tutti, una giornata che da una parte è triste, ma dall'altra deve essere anche un momento positivo, un momento vissuto in maniera positiva, perché è un momento di cultura, un momento di crescita per tutti quanti noi.